Non si è spenta ancora l'eco dell'operazione portata a termine ieri dai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Elogi pubblici per i militari dell'arma sono arrivati dal procuratore di patti Angelo Cavallo, che ieri ha presenziato in conferenza stampa, soffermandosi su alcuni aspetti particolari. Gli elogi hanno riguardato la compagnia guidata dal capitano Gian Carmine Carusone e la stazione di Falcone coordinata dal maresciallo Angelo Floramo. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giorgio Orlando hanno consentito di emettere 13 misure cautelari, di cui una in carcere, 10 ai domiciliari e due obblighi di dimora. L'accento è stato posto ancora una volta sulla grande capacità che il gruppo impegnato nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo aveva nell'interloquire con diversi fornitori non soltanto del comprensorio barcellonese. Non trascurabile neanche l'attività di acquisto di gioielli di provenienza furtiva al fine di investire poi sull'acquisto di partite di stupefacente. In questo contesto un insospettabile gioielliere è accusato di essersi prestato a ricettare e riciclare gli oggetti preziosi. E infine la forza intimidatoria, quella usata da un indagato che si era impossessato di un paio di occhiali in un esercizio commerciale che minacciava i titolari che si erano accorti della cosa, dicendo che non sapevano con chi avevano a che fare e facendo temere ritorsioni su casa, macchine ed esercizio commerciale. Senza contare che il padre di un giovane preferiva pagare 700 euro per impedire che il figlio fosse minacciato. Nell'inchiesta ci sono altri 9 indagati per i quali non è stata disposta alcuna misura cautelare.